Si può anche scaricare sul telefono, si, però non la tengo collegata. Ma voi pedalate molto? No, per il tempo pedalate poco perché voi la bici ne mettono... ne mettono solo. Ah, vabbè. Però, no, la prendo ogni tanto. Cerco di prendere da quanto più ci riesco. Però la prendo poco, non la prendo molto. Cioè, non riesci a prendere molto. Ma si può scolmere che la bici ne mettono. Certo. Certo. ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.